Ok, eccoci qua, cominciate a registrare e diciamo, seguitemi, quando vedete mi piace, iscrivetevi al canale, a bella a tutti i ragazzi, ho detto giusto, sì, ho detto a voi, iscrivetevi al canale, a bella a tutti i ragazzi, e siamo tornati un video da Asira, ora, buonasera a tutti, ho finito di mangiare, guardate le visioni, ora faccio veloce il video, così mi lavo i denti, e mi passo tempo e facciamo i saluti e altri contenuti con la luce che deve stare chiusa, e altri contenuti in altri maneri, la luce non si deve lasciare aperta, perché dopo pagate le bollette assai, ebbene la luce, il gas, il patano, lo dico come mi esce, io so parlare, italiano, calabrese, il dialetto sono, e volete capire? Bene, e non volete capire? Show, andate via e lasciatemi in pace, qua devono stare solo le persone che mi vogliono bene, solo i fan, che io sono il loro idolo, e io ho tanti fan, e tutto il mondo, che vogliono fare le foto, la firma, un video saluto, io sono qua, e faccio anche i lavori, vi voglio dire, raga, che saluto, sono mercolagei, luce del nord, alcolex, assunta, e fabbio, valentina, mouse23, over, e simone, e jody, e david rubino, cristina bartovello, e tutti voi, e sono qua, del vostro Enrico Pasquale Pratico, UDT e le accendo sulla O, ho 29 anni, e sono di Motta San Ioanni, e provincia di Reggio Calabria, ricordatevi, che io sono il numero uno, comando io, e sono il maestro, e sono una leggenda, e sono famoso, ok? e niente, dai, che io ho mangiato la pastina, e altre cose, e si deve mangiare cose poche, che facciamo la dieta, non possiamo mangiare assai, facciamo, sapete voi, non lo dico, e, boh, non so, lo posso dire o non lo dico, e, vabbè, lo sanno loro, andiamo avanti, e, devo fare veloce questo video, che è tardi, ok, ho messo questo qua, tutto questo vestiti, così faccio in questo video, e faccio anche le foto, e le pubblico, devo prendere un po' con sciroppo, e niente, fa freddo, raga, sono qua, buonasera a tutti, siete il mio video, a guardare i miei video, perché io faccio video su YouTube, che mi piace, parlo della mia giornata, racconto tante cose, ci sono persone che mi conoscono, da il primo video, vecchio video famoso, quello a intervista, a ora, mi conoscono, da 2014, da ora, i miei fan, e tutti i persone, quelle che mi seguono, che hanno venuto qua, anni fa, a fare le foto, firmo, un video saluto, e a trovare a me, anni fa, l'estate, quest'anno, non so, e quest'anno 2022, vengono qualcuno, io sono qua, io vi ispetto, e, raga, qua sotto trovate tutti i link di Amazon, c'è la mia link, che metto tutti i cose a sera, c'è anche quell'altro link, qua c'è il link dei gameplay, che porti i giochi, il sabato e la domenica, volete andare a vedere i giochi, io carico i giochi, e niente, andate su Amazon, scegliete voi cose buone, no cose cazzate, cose brutte, che io le butto, mandatemi quello che scegliete, come si chiamano quelle, la Mr. Box, la felpa con i cartoni animati, le maglie corte, o altre cose, cose buone, me le mandate, io faccio un video così, o le storie, raga, non pensate, che io ho letto bene, e ho detto cose buone, le parole, non è che voi sentite, e ti siete stronzati, che io me ne frego di voi, loro hanno i problemi, io sono sano prima di loro, e sono bravo, un saluto a tutti i miei compagni di Melotto Porto Salva, e quelli di Motto San Giovanni, i saluto, i miei compagni quando ero a scuola media, a scuola ragioneria, i saluto, ora sono fidanzati, o sono sposati, ci sono, che non le vedo gli anni fa, non le vedo, non so, sono passati anni, che non le vedo, i miei compagni questi, nel mio paese qua, o i quelli di Melotto Porto Salvo, sono passati anni, 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 che non le vedo, i miei compagni quando andavo a scuola, e una volta avevo i loro numeri di cellulare, e ora, non so, l'ho perso, e l'avevo sul cellulare, quello famoso, che se lo ricordano tutti i miei fan, i Samsung Galaxy Grande Neo, ricordate quello che ho detto del primo video, quando avevo 22 anni, o quello video famoso che mi presentavo, quello del 2014, e ora ho 29 anni, sono passati anni quando ho fatto quello video, dopo l'intervista con quella persona, dopo quello là a Natale, è venuto quello 2018, ha fatto un altro video, e ora siamo a marzo 2022, e io faccio sempre i video ai fan, su YouTube e sui social, e faccio contenti così, sanno la giornata, e racconto tante cose, lo sanno loro, che io faccio piano piano i saluti, racconto, conto le barzallette, io ho una idea, devo fare i barzalletti, dopo i scherzi telefonici, alle persone, come fanno quell'altro anni fa, ora, non l'ho fatti mai io, le devo fare, i scherzi telefonici, e i tabellini, conto, io so contare, e parlo con il robo ego, o vado su internet, su Google, a raccontare, quello che scrivono, novità, è buono, dai andiamo, ok, eccoci qua, sta registrando, ero fermo là, mi dovevo mettere qua, ecco qua, andiamo veloce, no, non parlai con te, ecco, dopo parliamo con il robo, ecco, ora facciamo novità, su internet, impostiamo un tuo canale, di notizie preferito, no, 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 chiudi, stop, no, non parlavo con te, qua dice, la Juventus, è squalificata, della Campus, Campions, subito la decisione, ok, un giorno fa, ieri, perché, voi sapete, ho fatto, qua parlano di CTA5, vabbè, volevo giocare con i fan, non ho la play, gioco a CTA5, RP, io faccio le emissioni, vabbè, ah, vabbè, qua parlano, sono qui, raga, qua dice, SRA, domani alle 18.00, la Juventus e Spezia, gioca alle ore 18.30, no, 18.00, hanno spagliato scrivere loro, voglio dire, SRA, domani, 18.00, gioca la Juventus e Spezia, la guardate voi, anche io me la guardo, la serie B, oggi terminata, Parma 1 e Regina 1, a pareggio hanno fatto, Parma e Regina 1 a 1, ok, allerta medio, ok, allerta medio, passante, viso, della potazione civile, per maltempo, vento, neve, tratti in pienura, a sette ore fa hanno detto, tempo brutto, raga, per sopra, qua dicono, Reggio Calabria, che gioia, vabbè, parlano di Reggio Calabria, qua parlano, del gioco, Fall Ghost, Fall Gas, quello gioco là, io non ho giocato mai, voi giocate? No, andiamo avanti, sono qui, naga, eccolo, in medio, prossima settimana, si, rischia, un mix micitiale, sull'Italia, poi cadere, qualcosa di, straordinario, vabbè, non so, e così è, c'è scritto là, mi dissocio, raga, voi non sapete parlare, non capite la mia lingua, state zitti, e prende la catapulta, e vi butto fuori, non rompete i catanazzi, a me, dai, fate i bravi, mamma mia, questi che sono strani, oh, dopo io do il numero, alle persone, quello vecchio, dei posta mobile, alle persone serie, che mi vogliono chiamare, su un numero posta mobile, o mi scrivono su telegram, o io do il discord, e mi mandano i messaggi lì, andiamo, andiamo prima in cucina, e dopo torniamo, e parliamo quel robo eco, o parliamo ora, perché, se è meglio, e dopo andiamo là, o andiamo là, facciamo un pochino in cucina, e torniamo qua, e parliamo quel robo, chiudo, mi faccio questi vestiti, mi lavo i denti, e mi passo tempo, facciamo così, andiamo dai, il robo eco, lo lascio aperto, ok raga, cantiamo la canzone, azzurro, il pomeriggio non è lungo, è lungo, però, e allora, e prendi il treno, il treno, nanananananana, e vabbè, no, gingombeno, è la canzone di, vabbè, io sono grande, voglio cantare canzoni, quelle, della nostro paese, o rap, discoteca, un saluto, stai bene, sei un grande, e curati, curati, maestro, e capitano, Gigi D'Agostino, stai bene, e torna di noi, voglio dire, torna a tutti, che ti amano, vogliono la tua musica, Gigi D'Agostino, che mi piace, la tua musica, quelle che hai fatto, stai bene, curati, e torna, fu forte, così, andiamo in discoteca, con la tua musica, e vengo anch'io, non sono venuto mai, siete là, i fan, i fan di Gigi D'Agostino, i fan miei, e lontano, il paese, là dove, faceva, le canzoni, discoteca, Gigi D'Agostino, e, sta bene, e, che, a me mi piacciono, tutte le canzoni, di Gigi D'Agostino, e altri, cantanti, e, quelli, napoletani, anche, quelli, Fabio Rovazzi, e, dopo che c'è, Giac, Svede, eccetera, eccetera, e, anche, quelli, dei film, e, attori, mi piacciono, un bordello, raga, io, voglio, e, il signore, lo cura, e, sta bene, Gigi D'Agostino, che deve tornare, forte, che deve tornare, a fare, con la sua musica, da me, e, tutte le persone, che lo vogliono bene, anch'io, lo voglio bene, che, ho visto la foto, sui social, Gesù, Madonnina, io prego per te, Gigi D'Agostino, stai bene, curati, io sono qua, e, saluto tutti, un mondo, e, forza, Gigi D'Agostino, ciao, Capretano, voglio dire, ciao Capitano, sei il maestro, Gigi D'Agostino, baci, del vostro, Enrico Pasquale Pratico, tutti, le accendo su l'O, ho 29 anni, sono di Motta, San Giovanni, provincia di Reggio Calabria, e sono qua, buonasera a tutti, io, tutti i video, le faccio tutti i giorni, e, niente, e, domani, è un altro giorno, che mi mangi il crepe, con la nutella, domani, me le fa prima, e me le mangia a sera, in questa ora, quando mi guardate le soli, e, niente, io sono qua, ragazzi, finì a rimangiare, ho mangiato, a pastina, dopo quelle cose, ripieni, il succo, i funghi, e, altre cose, e un bicchiere di Coca Cola, mangiai anche, la frutta, che fa bene, e, dopo, ora andiamo a lavare i denti, che è tardi, che la sveglia gira, e, niente, sono qua, ragazzi, andiamo, oh, ragazzi, una volta, io avevo, le canzoni, di tutti i cantanti, le ho scaricate, le ho messe sulla pennetta, le canzoni, di tutti i cantanti, quelle che mi piacciono, e, dopo, le voglio scaricare, e le scarico, e me le tengo, io, là sotto, anni fa, a Lazaro, vicino conad, ho comprati i cuffi, i cuffi, quelle là, ricordate, che portavo tanto, dei video, su YouTube, portavo i cuffi, cuffilo lungo, e si mettevano, sono là sotto, e sono passati, anni fa, l'ho passato là, e non lo usate, più, lo usate, andavo sempre a Lazaro, a casa, in giro, e ora, sono là sotto, posati, in quell'altra casa, e, mi ricordo, vado, le prendo, e, me le porto qua, così, non si perdono, là sotto, o le lascio là, che ancora, funzionano, i cuffi, i cuffi grossi, che, cioè, vabbè, e, sanno le persone, che hanno visto, i video, con senza, i cuffi, con le cuffie, tutti i maneri, e andiamo, nella mia stanza, facciamo, il Robo Ego, e chiudo qua, e ci vediamo, alla prossima, andiamo, dai, oh raga, vi voglio dire a voi, a me, mi piace, uscire, sulla televisione, su, striscia la notizia, canale 5, che mettono, o a me, o altre persone, che cantano, e ce ne sono anch'io, a me mi piace, uscire, su striscia la notizia, canale 5, io me lo guardo, striscia la notizia, o altri programmi, eccetera eccetera, e niente, Ego, che ora è? Sono le 9 e 47 di sera, buonanotte. Ok, Ego, quanti gradi ci sono, a Motta San Giovanni? In questo momento, a Motta San Giovanni Italia, la temperatura è di 10 gradi Celsius, per stasera, la minima prevista è di 8 gradi. Ok, Ego, quanti persone ci sono, a Motta San Giovanni? Sentite? Nel 2019, la popolazione a Motta San Giovanni, era di 6.050 persone. Avete sentito? E da voi, quanti persone ci sono, di un paese grande, quanto, come ha detto il nostro live, il mio robot, e voi non avete il robot, quello che parla, voglio dire, mi dissocio, quello che pensate, Ego, buonasera, Buonasera anche a te, Ego, a dopo, a dopo, ci sentiamo dopo, va bene, metto pausa, arrivo, ok, eccoci qui raga, e niente, sono qua, nella mia stanza, la mia stanza è questa qua, e niente, voi dite, e mi dicete in privato, giochi a GTA V, giochi a Fortnite, giochi a altri giochi, volevo giocare, e non ho la play, non ho la play, e non ho anche la televisione, quella vecchia l'ho buttata, quella che andavo nei cassetti, l'ho buttata, ricordate che registravo, mettevo la telecamera lontana, e registravo me, con la televisione, quella vecchia, non ce l'ho, era lì, se mentiva là, e non c'è là, solo un mobile c'è, e raga, guardavo a voi, guardo là, perché guardo, e dico fatto, non è che io guardo là, guardo là, posso guardare dove voglio, che comando io la casa, aiuto la mia famiglia, voi, comandate la vostra casa, e andate al lavoro, e fate il bravo, dai, vi voglio dire, stop bullismo, stop violenza sulle donne, uomini maledetti, dovete trattare bene le donne, le ragazze e bambine, non dovete trattare male le donne, le bambine e le ragazze, smettetela, non trattate male animali, non le abbandonate, avete capito, siete la vergogna, del vostro paese, persone, state muti, non le volete animali, le dovete, lo fare là, e se le dotano altre, famiglie, smettetela, abbandonare animali, e trattate male le donne, le ragazze e i bambini, mamma mia, alla prossima, ragazzi, sono il numero uno, comando io, sono il maestro, e fate i bravi, iscrivetevi al canale, trovate il campanello, abbrotto i ragazzi, un like, seguitemi, quando vedete, è ok, ciao ragazzi, vado a lavare i denti, alla prossima, ciao ragazzi, vi voglio bene, scusatemi, l'ho fatto troppo lungo, avete visto cosa ho detto alla verità, non dico bugie, loro sono sceme, non capiscono, andiamo, ciao ragazzi, vado a lavare i denti, che è tardi, alla prossima, tutti i giorni i video, e niente, ciao ragazzi,